Andrea Gessa si riparte per una nuova avventura ormai da tanti anni a Pescara, prima come giocatore e poi come team manager. Quali sensazioni? Beh, è sempre bello insomma ripartire, il gruppo è bello carico, insomma sono tutti ragazzi giovani e vogliosi. Il mister è una faccia conosciuta per me oltre a un amico, insomma sono anche io curioso di capire le sue metodologie che già in questi primi giorni sono chiare, sono felice di poter collaborare con lui. Quanto riguarda Palena siamo felici di essere tornati perché comunque sia il sindaco ci mette sempre a disposizione il meglio, ha migliorato ulteriormente il campo, ha fatto una bellissima struttura coperta e insomma le condizioni sono le migliori. Una squadra ringiovanita in termini di età media rispetto all'anno scorso? Beh sì, assolutamente, io vedo comunque arrivare ragazzi giovani, come ho detto prima, vogliosi, hanno insomma tutti quando vengono qua che vado a prendere o chi in aeroporto o chi in stazione parlano di un Pescara, del Pescara come l'unica società in Italia che fa giocare i giovani e questo è una cosa che per me riempie d'orgoglio perché comunque sia vuol dire che il lavoro nostro in generale è ripagato e forse a volte si parla meglio fuori del Pescara che dentro, questo è un po' un peccato perché comunque sia il lavoro penso sia sotto l'occhio di tutti. Tornato a questo ritiro, il 21 ci sarà la prima uscita ufficiale con la Flacco Porto, state organizzando altri amichevoli e poi ti chiedo, ci sarà un altro ritiro dopo quello di Palena, state pensando ad una seconda fase? Ma anche il mister vuole capire un pochettino a fine del ritiro qui a Palena che cosa fare anche per poter cementare meglio il gruppo oppure per poter lavorare meglio e in armonia magari ancora lontano da Pescara ma non perché Pescara non vada bene ma perché magari stare ancora insieme più giorni consecutivi è sempre un po' meglio e penso che lui voglia vedere un pochettino come andrà questa fase Sta in piedi l'ipotesi Lucoli? Ma sì, penso di sì, le strutture stanno cercando di mettersi in regola e insomma per una squadra di serie B non è facile compatibilmente con le nostre esigenze sarà sicuramente nostro piacere Per ora rimangono fissate per ora l'amichevole del 21, poi la data del 24 ma ancora dobbiamo capire con chi il 28 speriamo di poter rigiocare e poi siamo legati appunto alla Coppa Italia